Musica Partiamo da dati importanti che oggi verranno approfonditi qui insieme a noi, quelli presentati con il dossier statistico dell'immigrazione che fa riferimento all'anno appena trascorso, il 2023, un rapporto annuale che illustra il panorama migratorio dell'Italia attraverso un'analisi ragionata dei dati statistici più aggiornati. L'iniziativa è stata organizzata da una rete importante di associazioni tra cui Mesagna e Bene Comune e Arcibrindisi, per questo ringrazio i rispettivi rappresentanti che sono Gino Stasi e Marianna Melone, benvenuti. Grazie, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, capite che il tema è assolutamente delicato, però questo volume che voi avete portato oltretutto qui questa mattina in studio ci fornisce dei dati veramente interessanti. Io partirei con Marianna Melone dell'Arcibrindisi per capire come è andata questa edizione, perché non è la prima, ce ne sono state negli anni scorsi di diverse. Sì, grazie intanto per l'invito e quest'anno è stato particolarmente interessante riuscire a partecipare a questa presentazione anche grazie alla bella rete di associazioni che ha deciso di unirsi e che a vario titolo si occupa di immigrazione, di accoglienza e di informazione sul territorio. Quindi sì, questa iniziativa che si è tenuta lo scorso lunedì a Mesagne ha visto appunto sia la partecipazione di persone diciamo un po' già sensibilizzate che anche la comunità ospitante che ha partecipato per informarsi e conoscere un altro aspetto della narrazione sulle migrazioni. Ecco, Stasi, grosso modo che dati emergono perché poi andremo ad approfondire insieme. Ho visto che lei ha perso una serie di appunti correttamente da buono studioso di questi temi perché poi avete fatto un lavoraccio immagino anche per partorire questo volume. Intanto diciamo che è un dossier statistico socio-statistico, cioè quindi valuta il massimo della statistica diciamo di immigrazione in Italia, ma ha un rapporto anche mondiale insomma, diciamo che poi il dossier all'interno ha dei dati particolari che vanno sviluppati regione per regione. Che cosa dire subito? Che appunto come dicevo prima è un dossier socio-statistico e quindi calcola anche un'analisi di narrazione dell'immigrazione oggi da 50 anni in Italia, cioè da 73 in realtà, che non ha dato appunto ancora una legge quadro come bisogna comunque avere come stato di accoglienza e bisogna comunque strutturare bene l'immigrazione nel nostro paese. Mi fermo qui per poi magari dopo facciamo altre tipo di analisi insomma se mi consente. Certo, assolutamente sì. Torno da Melone, il contributo qual è stato dell'Arci di Brindisi? Allora Arci attraverso la promozione dell'iniziativa e tra l'altro facendo una piccola parentesi Arci Brindisi gestisce, è un'associazione che gestisce alcuni progetti SAI. SAI sta per sistema di accoglienza e integrazione e quindi per rifugiati e richiedenti asilo. Il contributo è stato quello innanzitutto di riconoscere la città di Mesagne come anche un territorio molto favorevole alla questione integrazione. Ci siamo occupati insieme di organizzare l'iniziativa attraverso l'ospitata del dottor Luca Di Sciullo e la partecipazione e l'organizzazione di un momento successivo a quella che è stata la presentazione che si è tenuta nel castello di Mesagne. Ecco, prego prego. Nono, potrei ricordare appunto che abbiamo ospitato il professore Luca Di Sciullo che è il presidente di IDOS, di centro di ricerca appunto per l'immigrazione, dossier migrazione, dove ormai è un punto di incontro tra noi di Mesagne e la provincia e loro perché è da cinque anni a questa parte che presentiamo il dossier per cui siamo maggiormente favoriti da una statistica che comunque il dossier riporta. Ma non solo quello, ma anche per quanto riguarda, come diceva Marianna prima, il territorio nostro che è coinvolto a livello di integrazione e diciamo dell'immigrazione attraverso le scuole, attraverso le strutture familiare eccetera. Per cui è importante in realtà avere ben chiaro cosa siamo andati a presentare l'altro giorno che era il 26 di febbraio. Una data anche molto particolare perché la voglio ricordare che è purtroppo la tragedia di Cutro dove furono affogati un sacco di fratelli immigranti. È stato un caso o è stato un caso? No, non è stato. Quando l'abbiamo contattato, effettivamente sembra così, ma quando abbiamo contattato il professore abbiamo detto la possibilità, la disponibilità, insomma quale giorno era il 26. Poi ci siamo resi conto effettivamente un mese prima che è una data da ricordare perché è importante, perché in realtà mancava poco ad averli nel nostro territorio. Ecco, le immagini che scorrono fanno riferimento proprio alla presentazione di qualche giorno fa e abbiamo visto anche alcune pagine interne proprio in riferimento al territorio di Puglia. Leggevo 138 mila stranieri in questo momento, Melona. Com'è la situazione? Magari possiamo anche proprio aprire le pagine e leggere insieme perché trattandosi di dati insomma... Avevo preso degli appunti. Sì, 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 no, ma trattandosi di dati è giusto essere precisi. Sì, allora sì, mi riallaccio anche a quello che diceva Gino, quindi sì, il dossier statistico che è diviso in diverse parti ci racconta, ci fa sia una fotografia europea e internazionale sull'immigrazione che poi andando anche a toccare quelle che sono le fotografie e le situazioni regione per regione e per quanto riguarda la Puglia, con il contributo di CGL, veniamo comunque sì alla conoscenza del fatto che in Puglia ci sono circa 140 mila, poco meno di 140 mila stranieri e la maggior parte di loro risiede tra le province di Foggia e di Bari. È interessante l'analisi che viene fatta anche rispetto alla presenza maschile e femminile. Quali dei due prevale? Immagino con la maschile. In realtà è quasi pari, è leggermente di uno o due punti in più quella maschile ed è interessante l'analisi che viene fatta perché ci riporta comunque questa maggior parte, la maggioranza di presenza maschile che risiede a Foggia e in provincia e che sicuramente segue anche la richiesta di forza lavoro nel settore dell'agroalimentare, mentre quella femminile è più concentrata nella provincia di Bari e che segue una richiesta personale nell'ambito domestico, di lavoro di cura e domestico. Quindi interessante anche per questo riuscire a leggere i numeri del dossier perché ci danno anche una fotografia poi di quelli che sono i bisogni del territorio e la capacità di accoglienza appunto di ogni territorio. Però vedo che ci sono tanti parametri che voi avete preso in corso di relazione, vogliamo citarne qualcuno tra questi che si riferiscono alla Puglia ad esempio? Sì, allora questa che stiamo vedendo in questo momento credo che sia, sì, ecco è la parte che riguarda la presenza degli stranieri e quindi la percentuale di persone che lavorano, che studiano e dei nuovi nati in Puglia. Qual è la fotografia attuale quindi? La fotografia attuale è quella di una presenza molto giovane in Puglia, quindi i giovani stranieri sono praticamente superiore, il numero è superiore a quello dei giovani pugliesi attualmente ed è in aumento il numero anche dei minori stranieri che frequentano le scuole pugliesi. E anche la parte che riguarda il lavoro straniero in Italia ci porta appunto a ragionare sui dati, cioè la maggior parte delle persone che lavorano in Puglia sono appunto concentrate nel lavoro domestico e nell'agricoltura e in numero minore sono quelli impegnati nell'industria, servizio e commercio. Dobbiamo aggiungere anche un'altra cosa che durante la guerra in Ucraina chiaramente l'afflusso è stato maggiore nella nostra Italia. Perché non si poteva andare... Chiaramente no, perché già se ne andavano 2000 persone al giorno insomma, per cui venevano accolte. In questo caso è aumentata appunto a livello statistico l'affluenza appunto dell'immigrazione. Purtroppo dobbiamo, devo ribadire anche a livello diciamo così, di concezione proprio della politica strutturale sull'immigrazione che non c'è purtroppo un inserimento integrativo perché magari possono sembrare strano ma abbiamo immigrazione come dicevo prima dal 73 quindi più di 50 anni e siccome non c'è stata mai una politica strutturale purtroppo ci rendiamo conto che anche la partecipazione sociale di questi diciamo ormai prima, seconda generazione che ormai sono nati qui in Italia non sono integrati né a livello lavorativo come si dovrebbe e né a livello scolastico. Questo è quello che noi diciamo abbiamo anche diciamo recepito da questo dossier perché poi come dicevo Mariana ha dato i dati e che è stato abbastanza preciso perché i numeri sono numeri però bisogna anche raccontare la social narrazione appunto di tutti. Per le persone che ci sono dietro. Che sono delle persone, ecco, sono delle persone. Certo. A ciò si aggiunge una grande piaga che non dobbiamo mai dimenticare che è quella di persone che arrivano da situazioni molto gravi, molto delicate dovrebbero transitare nei CAR, nei CAS per un'identificazione e poi essere smistati una brutta parola però dovrebbero essere come dire destinati a luoghi diversi per una serie di motivi che siano quelli appunto di integrazione concreta, lavorativa e sociale ma questo non accade mai perché noi sappiamo che abbiamo questi centri che dovrebbero essere temporanei con le denominazioni che poi cambiano ogni anno però di questo trattiamo rimangono lì sostanzialmente quasi abbandonati. Hai perfettamente ragione, era proprio questo il discorso che volevo fare, per cui anche il decreto più antedosi dell'anno scorso non è cambiato nulla, cioè non ha strutturato la questione migratoria in una maniera a vederlo anche lontano come diciamolo pure in altre città europee, insomma paesi europei dell'Europa, insomma come la Germania, ha già creato quello stimolo insomma di integrazione. Io non mi stancherò mai perché il dossier è ok, è statistico come abbiamo detto, ma le storie delle persone come dicevi tu, sono le più importanti. Certo, è chiaro perché poi si parla di numeri a volte per restituire un'immagine, una fotografia della situazione e anche denunciare quello che non va, però ricordiamoci sempre che ci sono delle persone dietro. Oltretutto Brindisi fresca di una notizia che si riferisce molto strettamente al tema, che è quello del fermo della nave di una ONG, c'è stata anche una manifestazione sul lungomare per protestare contro questo fermo che era stato deciso dal governo, adesso tutto è stato sbloccato, abbiamo intervistato anche proprio il presidente della ONG. Questa situazione come l'avete letta? Che ve ne parla? Grande, bella domanda questa, molto importante. Sì, innanzitutto tutte le associazioni, parte delle associazioni che hanno anche contribuito all'organizzazione del dossier statistico, tra i quali a parte Mesanni e Bene Comune, c'era anche Street View, lo sportello della comunità africana, c'era Lampi, e diverse associazioni presenti appunto nella presentazione del dossier statistico, erano in piazza lo scorso, credo fosse l'11 febbraio, eravamo tutti lì per chiedere comunque che ci fosse il rilascio della nave. Ovviamente anche riuscendo a parlare con l'equipaggio e con i volontari che comunque sono scesi anche loro, sono stati con noi in piazza. E in realtà è stato un bel momento, oltre che di informazione, anche di riflessione per chi era in giro quella domenica sera. Magari si è fermata ad ascoltare, a confrontarsi con queste persone. Sì, confrontarsi anche proprio sul concetto di criminalizzare la solidarietà. Nel senso la Ocean Viking è una nave ambulanza, è una nave ambulanza che si occupa del soccorso e della cura delle persone che vengono appunto soccorse in mare. Quindi il pensiero di criminalizzare un gesto di solidarietà, un gesto di umanità, è qualcosa che porta un attimino a riflettere tutti quanto sia ingiusto anche un fermo del genere, che porta poi ad ulteriori morti nel Mediterraneo. Infatti il dossier poi si ferma anche ad alcuni dati. Alcuni dati si riferiscono fino al 30 giugno del 2023 e altri dati si riferiscono alla fine del 2022. E proprio durante quell'anno è anche molto alto il numero delle persone che si sono disperse in mare. Se c'è un blocco, se posso intervenire, se c'è un blocco anche navale, se c'è un blocco di interruzione dell'afflusso migratorio, chiaramente i migranti scelgono altre vie. L'altre vie significa raddoppiare i soggiorni in altri paesi dove la libertà è suppressa. Parlo della situazione balcanica, insomma, e per cui diventa ancora più atroce, perché dove vanno a finire non si sa, come lei diceva prima, appunto i cara, i cas, no, in recinti. Peggio ancora. Peggio ancora, per cui diventa anche a livello psicologico una forte, insomma, come dire, interpretazione della propria condizione di vita. Grave psicologicamente, umanamente. Poi sappiamo che si vivono spesso anche i diritti proprio umani delle persone, non ci nascondiamo. Il problema vero, a mio parere, vorrei che mi diceste qual è la vostra posizione, è che nessun governo di nessun colore è riuscito in tanti anni a fare qualcosa. E quindi è facile, a mio parere, adesso, no? Salvini, come dire, è diventato un po' il punto di riferimento delle critiche, per carità, tutte legittime quando sono costruttive, però centrodestra, centrosinistra, Movimento 5 Stelle, governi tecnici, nessuno è riuscito a capire come è fatto con questi migranti. Invece altri stati, probabilmente più furbi intorno a noi, hanno capito benissimo come fare, a partire dal fatto che dopo l'arrivo in Italia, restano in Italia, no? Perché gli altri stati dicono, attenzione, le nostre porte sono chiuse, no? Io sto semplificando, però avete capito cosa voglio dire. Io penso che hai fatto un'analisi perfetta per poi produrre che cosa? Che ci sono stati governi e governi, e quindi la questione, il fenomeno migratore è trasversale, cioè prende completamente tutto. La parte, diciamo, come dire, razzista la lasciamo a pochi politici, insomma, perché trovano quello che trovano, insomma, no? Perché non è la questione, ma proprio la politica, come si diceva, che è strutturata in maniera di una legge, no? O comunque di integrazione, non c'è mai stata da una parte o dall'altra. Allora, noi siamo stati, dopo la presentazione del giorno 26, la mattina seguente nella scuola Maria Maternone di Mesagna. I ragazzi che avevano detto? I ragazzi erano all'incirca 150 ragazzi, c'erano, diciamo, il pensiero critico. Veniva fuori un pensiero critico. Chiaramente quello che si legge dai giornali, dai telegiornali, c'è terrore, razzismo, eccetera, no? Cioè, quindi, lei prima ha citato un uomo politico attuale, no? È chiaro che bisogna sfaldare e decontestualizzare quella questione del razzismo. Chi lo sa se le scuole, no? Dentro le scuole i nostri figli, i nostri nipoti, riusciranno mai a sconfiggere questo razzismo? Perché in realtà è uscito fuori questo steccato, diciamo così proprio. E la questione principale che abbiamo detto è riuscire ad avere sempre un senso critico delle questioni. Cioè, non pensare, come dicevi sempre tu prima, sono esseri umani uguali a noi. Beh, io... I ragazzi li avete incontrati voi, quindi non so cosa vi hanno detto, però io penso che i ragazzi di oggi siano molto più informati e molto più aperti veramente ad un'integrazione concreta, che non è l'integrazione che si faceva qualche generazione fa, ai noi, non voglio puntare il dito contro nessuno, anche perché sono giovane, quindi potrebbe sembrare che io voglia criticare le vecchie generazioni. No, però gli strumenti culturali erano diversi, si parlava meno di tanti argomenti, si conoscevano meno, quindi che cosa succedeva? Che l'integrazione era, sì, dire in un evento pubblico, lui è uguale a me, io sono uguale a lui, però poi di fatto ci si voltava e dopo cinque minuti cominciava lo stigma sociale, che si manifestava in tanti modi. Oggi io invece vedo che i ragazzi, anche attraverso i social, lo mostrano molto, veramente credono in un'integrazione e la attuano senza parlarne. È d'accordo con me, Melone? Sì, allora intanto, provando anche una riflessione rispetto alla domanda di prima, e che forse una delle cose di cui anche abbiamo parlato insieme a Luca Di Sullo e anche tra di noi associazioni nel momento in cui ci incontriamo e forse un, chiamiamolo errore che vediamo, è quello di continuare ad approcciarsi al fenomeno migratorio come se fosse una continua emergenza. Quando, come diceva anche Gine, da 50 anni che l'Italia è un paese di immigrazione come lo è la Puglia da circa 30 anni con l'emergenza o con ciò che era successo in Albania. Quindi continuare ad approcciarsi al fenomeno migratorio come un'emergenza non ci consente poi di veramente strutturare delle politiche più a lungo termine. E quello che ovviamente rispetto all'integrazione noi cerchiamo di fare è quello proprio di mettere in contatto i progetti, le nostre attività con il territorio attraverso proprio una programmazione che va dal riportare o dal tramandare dei lavori, dei mestieri artigiani o di riuscire a creare e riuscire ad incontrare ogni volta persone di fascia d'età diversa insieme alle persone che sono o nei progetti di accoglienza o che sono semplicemente sul territorio e che si dimostrano poi essere una grande risorsa anche in termini di mediazione oltre che di forza lavoro. Ecco, a proposito di Albania tutti ricordiamo che cosa accadde negli anni 90 oggi invece o meglio qualche mese fa la nostra premier Meloni è stata proprio in Albania per questo accordo che ha suscitato una serie di polemiche adesso penso che si sia ancora nelle aule di tribunale per capire con la Corte che cosa si farà. Però una vostra impressione su questo possibile accordo lo sapete di che si tratta ve lo sintetizzo in poche parole i migrati che arrivano in Italia e che potevano essere tra virgolette smistati in questi centri che si troverebbero in Albania già individuati due aree molto grandi dove poter svolgere queste attività piccola parentesi anche lì si è parlato di centri temporanei di passaggio per poi regolarizzare e sistemare la situazione noi immaginiamo che si sarebbe trattato di un ennesimo cara e casse come accade a Lampedusa come accade a Foggia come accade a Taranto insomma purtroppo persone lasciate lì però ecco l'idea vi sembrava convincente? L'idea non è non è per niente convincente oltre che non sia ancora quanti milioni di euro insomma verranno spesi quindi sulla diciamo su un capitolo diciamo che potrebbe essere spalmato a livello nazionale sempre in quel migliorare appunto e strutturare le politiche migratorie primo la seconda cosa è la domanda che mi faccio è allora crisi ucraina e guerre in difficoltà adesso e molte altre speriamo di no no? e vogliono concludere con l'agenda fame fine della fame 2030 quindi significa desertificazione dei terreni dei territori africani quindi significa non più raccogliere quindi la gente anche per i cambiamenti climatici scappano via dalle proprie terre allora quando l'Albania si vedrà arrivare migliaia 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 di migranti ecco la domanda la rivolgo come che cosa accadrà cioè che cosa faranno lei mi parli che dice rimarranno lì accondonati di nuovo tu hai stazionato secondo la tua logica premier lo staff tutto quello che volete una soglia di intervento diciamo numerale no? però questi sono numeri altri che arrivano e le immigrazioni ci saranno sempre ancora di più se tu non strutturizzi assolutamente una situazione dentro il tuo paese questo è quello che mi sento di dire mi è storto un po' il naso quando ho fatto questa domanda cosa ne penso? non la convince molto questa idea della Meloni che ha incontrato Edi Rama no non mi convince perché semplicemente non è delocalizzando la parola emergenza che si risolva tutto tra l'altro l'Albania negli ultimi anni ha vissuto sicuramente un periodo di rinascita allora una considerazione un pensiero mio personale è quello che a volte quando un territorio è in grado di accogliere è evidente che ha raggiunto anche un livello di civilizzazione politica economica e culturale sociale e quindi delocalizzare vuol dire che l'Italia non è pronta da tutti questi punti di vista insomma un po' come fanno le aziende che localizzano per pagare di meno gli operai l'esempio è infelice però è una battuta per dire che insomma delocalizzando sintetizzando il suo pensiero non si risolve il problema che è ben più ampio intanto io vi ringrazio chi volesse approfondire e informarsi in merito a questo dossier statistico dell'immigrazione dove e come può trovarlo www.dossierimmigrazione 2023 sul sito appunto quindi avete un sito internet e lì si può recepire anche perché prendere direttamente il catalogo cartaceo diciamo perfetto perché insomma oggi abbiamo dato una spolverata di dati e abbiamo poi approfittato anche per approfondire il tema però chi volesse informarsi può appunto ritrovarlo grazie grazie a te di Mesagne Bene Comune e grazie a Marianna Melone di Arci Brindisi grazie a tutti